Il software manager di Casella ha sempre gestito l'update di sistemi operativi Windows e Mac e nel caso di estensione con gli interparti la gestione di software di terze parti per Windows e Mac. La nuova versione che è stata in beta per circa sei mesi è ancora tuttora in beta ma nel frattempo è diventata una beta pubblica quindi vi farò vedere poi come volendo abilitarla sui vostri server ci dà proprio un motore del tutto nuovo che ha delle caratteristiche molto molto innovative. Prima di tutto intanto ci siamo tolti dalle scatole il fatto di dipendere da integrazioni con motori diversi. Prima sapete che il motore era Ivanti, quello attuale è Ivanti, questo qui è scritto da Casella quindi anche lo sviluppo, l'estensione del supporto e così via è molto più agile. Il sistema è in grado di gestire patch su tutte le aree problematiche dei nostri sistemi operativi. Qui parlo di sistema operativo, applicazioni Windows, Microsoft quindi Office eccetera eccetera, driver e firmware che sono forse le aree che di solito gestiamo meno in modo proattivo perché di solito comportano il fatto di dover andare sulla macchina oppure comunque il BIOS se la macchina si spegne durante il riavvio farlo da remoto ci sembra pericoloso perché rischiamo di briccare la macchina ma il sistema qui è in grado di gestire quell'area lì, non è detto che vogliamo farlo ma si può fare e il software di terze parti. Il software di terze parti al momento ci sono un centinaio di software gestiti e che tra poco andremo a vedere in una visualizzazione rapida, non uno per uno ovviamente altrimenti vi tengo qua fino alle due, però sono già 100, 100 più di 100 e il sistema è fatto per essere integrato velocemente. Peraltro supporta anche i custom installer quindi abbiamo un'interfaccia che ci permette in poche, nella compilazione di pochi campi di creare essenzialmente uno script di installazione e permette anche di utilizzare un pulsante per la disinstallazione del software. La cosa più importante secondo me di questo nuovo motore è che presuppone che se trova un software supportato sulla macchina automaticamente lo mette in aggiornamento. Come potete vedere qui sotto abbiamo una macchina di un collega che ha software anche abbastanza particolari VirtualBox, OpenVPN, Shotcut, Python, oltre che i soliti Google eccetera eccetera che gestiamo tutti anche volendo un driver di una tastiera Logitech, Human Interface Device. Tutto questo se trovato non aggiornato sulla macchina viene messo nella stessa, diciamo, alla stessa stregua degli aggiornamenti di sistema operativo. Ossia se decidiamo di fare il deploy in un determinato momento tutto questo software viene aggiornato lo stesso. Non siamo noi a dover dire vogliamo aggiornare OpenVPN o Oracle o VirtualBox eccetera eccetera ma è il sistema stesso che se trova un software lo mette automaticamente in protezione. Ovviamente voi direte sì ma magari VirtualBox non lo voglio aggiornare perché la versione nuova non è più compatibile con qualche macchina virtuale che ho io. Va benissimo perché possiamo comunque utilizzare l'override o comunque l'approvazione nel caso che è comunque supportata per eventualmente andare a escludere quel sistema per singola macchina o per intero sistema per cliente e così via. Quindi il sistema secondo me è molto molto ben studiato a livello logico. non siamo noi a dover dire aggiorniamo il software ma lui presuppone che se trova un software supportato questo debba essere messo in aggiornamento. Questo ci permette di fare due cose. Intanto aggiornare quel software che non abbiamo tempo, voglia, non sappiamo neanche magari che si trova sulle macchine che non aggiorniamo mai. Contiamo che molto software adesso è un software che è un client locale che magari parla con un cloud. Parlo di software come Evernote o roba del genere che non sono nulla di particolare se non che su Evernote ci potresti mettere quello che vuoi, anche le tue password, anche il tuo IBAN e se non aggiorni il client magari una vulnerabilità per mettere l'accesso al tuo cloud. Evernote è uno dei software gestiti in particolare ma è per dire che possiamo trovare software problematici anche laddove sembrerebbe che invece la problematica non ci sia. Il modulo di terze parti che è qua sotto, si chiama K3PP, casea e other party patching, è un modulo che ci serve, che intanto vi faccio vedere che cosa gestisce, andiamo a prendere un profilo di test, software, ad, questi sono i software che possiamo andare ad aggiungere a un profilo di ter parti ma il profilo di ter parti ci serve solo per installare la prima volta il software. Una volta che è installato entra nel ciclo di patching. Questo di nuovo secondo me è un punto di forza di questa soluzione perché ci permette di creare dei profili standard per tipologia di macchina che installano il software che ci serve, lo applichiamo e a quel punto quelle applicazioni entrano nel giro standard. Vi faccio una piccola scorsa, questi sono i vendor, chiaramente all'interno ci possono essere diversi software, ci sono già un bel po' di cose, anche abbastanza verticali, tanto per darvi un'informazione abbiamo il 3CX Phone per Windows. Come si aggiorna questa lista? L'aggiorna Casea sulla base di una sorta di telemetria, nel senso che Casea ha sul cloud, per esempio, le informazioni di quali software siano presenti sulle macchine e chiaramente può, in caso di opt-in per la telemetria, andare a definire un aggiornamento. Ma si può anche, ed è stato detto anche al Casea Connect, se qualcuno lo ha seguito, si può anche chiedere a Casea di aggiungere determinati installer o, ripeto, qui si tratta di installazione, non tanto di gestione. Se avessimo fretta di utilizzare il sistema per un software che non è gestito o per un software nostro interno, possiamo usare un custom installer. Il custom installer permette di, in pratica un'interfaccia facilitata, come potete vedere, che permette di andare a creare una sorta di script per installare un software specifico. questo chiaramente estende all'infinito le potenzialità di questo strumento. Torniamo un secondo sulla macchina del mio collega, vi faccio vedere che tra le varie cose possiamo anche andare a verificare la storia delle singole patch, vi faccio notare che, anzi andiamo su una macchina più significativa, che il motore è molto, molto veloce nella scansione e nell'installazione. Andiamo su questa macchina qui, vi faccio vedere che il 12 novembre, tra le 12.36 e l'1.15, ha installato tutte queste patch, tra cui anche patch abbastanza significative, tipo il SQL Server Management Studio, che è, diciamo, abbastanza impegnativo da installare, installato aggiornamenti di Office nel giro di due minuti e così via. Quindi la velocità rispetto a quello precedente è no contest, non c'è paragoni, si parla di 30 volte più veloce, ma anche rispetto ad altri motori, sapete che noi abbiamo diversi RMM a portfoglio, anche rispetto ad altri motori, questo è davvero, davvero veloce. Ci fa vedere quali sono le applicazioni con questo Audited Application che sono gestite e si trovano sulle macchine, vedete anche cose abbastanza particolari, Node.js, che probabilmente si è installato su qualche macchina di vostro cliente, o siete molto bravi, e di questo vi faccio i complimenti, e lo aggiornate con script, oppure probabilmente è un software che è alla versione in cui era quando è stato installato. Ma vi faccio notare che da qui abbiamo due pulsanti, uno è l'uninstall, quindi se io trovo una applicazione che non è permessa dalla policy aziendale, a me va bene che venga aggiornata, pensateci, se viene trovata un'applicazione virtualbox una macchina e la policy aziendale non permette virtualizzazione perché si creano macchine che non sono gestite, a me va bene che finché sulle macchine però venga aggiornata, perché il rischio lì è che invece il sistema venga installato lo stesso e resti alla versione in cui è stato installato e quindi abbia vulnerabilità eccetera eccetera. Quando poi mi rendo conto che faccio un audit, capisco che l'applicazione non è più, non è come dire, permessa dall'azienda, vengo qui e la posso disinstallare. Quindi abbiamo una doppia funzionalità, facciamo essenzialmente, riduciamo la superficie d'attacco, facciamo emergere volendo lo shadow IT perché le applicazioni che il cliente si installa e che non sono apertamente permesse non dovrebbero essere installate quindi possiamo vederle in queste liste eventualmente facendo anche dei report e per di più abbiamo anche una disinstallazione automatica che vi devo dire funziona o l'ho fatto su diverse applicazioni, viene disinstallata effettivamente anche questo abbastanza velocemente. Vi faccio vedere come poter abilitare il motore sul vostro VSA. Andiamo in Settings, Edit e clicchiamo su Enable Native Caseia Engine, Beta. Come vedete è una beta, è una beta pubblica, quindi è una beta che potete o dovreste poter abilitare tutti quanti. vi do due informazioni. La prima è che se non vedete il modulo di software management è possibile che non abbiate la licenza aggiornata, dovreste averla perché ormai sono passati anni ma nel caso scrivete a supporto e ve lo facciamo abilitare e andrà poi installato. Se applicate il motore beta nuovo vi consiglio di farlo dopo aver installato la patch che è uscita un paio di giorni fa perché ha un paio di bug fix su questa parte qui, in particolare legate alle lingue delle applicazioni di terza parte. Una volta applicato questo flag non abbiamo, non siamo saltati alla nuova versione e basta ma a seconda della tipologia di profilo di scan and analysis che creiamo possiamo decidere se usare il nuovo o il vecchio motore ancora. Il consiglio è di creare un nuovo profilo, non andare a modificare quelli vecchi perché chiaramente quello potrebbe andare a scrivere cose non coerenti all'interno del DB fate nuovo profilo, selezionate come patch strategy casei update 2.0 se applicate questo nuovo profilo alle macchine il motore utilizzato la macchina utilizzerà il motore nuovo sia per scansione che per override che per third party e che per deployment. Se invece mantenete un profilo legato a casei update vecchio il sistema utilizza ancora il motore vecchio quindi potete valutare su base di singola macchina o di singolo cliente quale motore utilizzate. Io vi dico che sto usando il motore in beta da circa sei mesi, circa da maggio poi c'è stato chiaramente la problematica che sapete tutti di quest'estate che ha un po' rallentato ovviamente lo sviluppo generale di caseia ma grosse problematiche non ne ho mai trovate e lo stiamo usando in produzione e funziona devo dire molto molto bene quindi sono se fossi inglese direi e I'm very excited di starvi facendo vedere questo motore. Non voglio tediarvi troppo si trattava di una presentazione rapida un quick lab più che altro per farvi vedere quello che si può fare con questo sistema qui vedo che c'è qualche domanda se avete qualche domanda potete scriverla o nella chat o nell'interfaccia di domande partiamo con le risposte. Allora si potrà disinstallare anche le patch emesse da remoto con il nuovo engine? In quel momento non è possibile quanto mi risulta. Allora la questione della disinstallazione delle patch è diciamo da considerare perché si tratta di come dire di valutare specificamente se la patch per esempio è una dipendenza per patch successive quindi non è detto che proprio per come funziona Microsoft si possa installare per quello per i Nivanti per esempio non si può fare. Al momento non c'è il bottone disinstall la patch è una delle feature è possibile che arrivi prima della genera lavorability che in particolare è in Q1-2022. Si può creare un profilo che automatizzi la disinstallazione di internet e applicazioni se rilevate anche questo per il momento non è non è fattibile non c'è il profilo a disinstallazione è un profilo diciamo in modalità whitelist cioè aggiunge al momento si può fare con il bottone il passo per fare poi un profilo secondo me non è così lungo quindi se ci sono le necessità si può come dire richiedere tranquillamente. Riguardo il licensing per l'update delle app terze parti invece sarà sempre a parte e incluso. Allora non è ancora rilasciato quindi essendo beta è incluso per definizione nel senso che non credo che sia ancora un pricing nel caso siate interessati e abilitando non vi funziona la parte delle terze parti scrivetemi così eventualmente chiediamo a caseia come funziona la mia beta per esempio è completa quindi immagino che sia anche la vostra non so cosa deciderà caseia ovviamente nel momento in cui rilascerà questo non lo posso sapere ovviamente a nessun livello. Prego Vittorio sono furio però non Bruno tranquillo tranquillo non so se avete se qualcosa ha solleticato la vostra la vostra fantasia io vi dico davvero che ha al momento credo che sia il miglior motore di di patching che abbia visto in funzione quindi fateci un giro e se non patchate cominciate a farlo perché è uno dei dei compiti più semplici che ci risolvono una buona parte dei problemi tutti i giorni Ivano ciao Furio quindi possiamo mandarlo in produzione allora è una beta pubblica quindi significa che caseia è abbastanza tranquilla da permettere in opt-in a tutti quelli che lo vogliono utilizzare di utilizzarlo io fossi in te e lo metterei magari in funzione su qualche macchina cliente e così via e e poi da lì estendi ecco noi lo so che io sono un po' sciagurato da questo punto di vista l'abbiamo usato dal giorno 1 in produzione e non abbiamo mai avuto problemi da lì a dirti questo software non ha bug ovviamente non te lo posso dire Giovanni non vede il K3PP dovrebbe abilitarsi abilitando quel flag se come ti dicevo ti consiglio di farlo post come si chiama post installazione della patch che credo che Giorgio farà nei prossimi giorni il dubbio il dubbio potrebbe essere solo per l'eventuale costo di upgrade non ho capito la domanda scusami cioè se vi costa aggiungere questa parte qua o no allora appunto come dicevo in questo momento qui non credo che sia ancora un pricing perché è una beta la beta dovrebbe essere completa quindi nel caso che non sia così non abbia altezze parti ditemelo in generale quando verrà rilasciato si capirà se è un costo aggiuntivo oppure no diciamo che per come era e questo ve lo dico spassionatamente per come era il modulo di terze parti probabilmente te la cavavi a lavorare con script o a patchare in altro modo tipo con unite o roba del genere per quello che ho visto vale la pena lavorare in questa modalità perché davvero non ci poniamo più il problema di patchare applicazioni anche ripeto molto particolari non so se su tutte le vostre macchine per dire dove c'è OpenVPN ci sia l'ultima versione con questo e chiaramente quello è un software abbastanza importante da patchare se questo software ci permette di patcharlo senza colpo ferire Daniele ho perso la spiegazione sulla parte vulnerabilities poi per cortesia ripetere in realtà nelle vulnerabilities non ci sono andato ho semplicemente detto che il sistema gestisce molti software in automatico gestisce la parte di software di terze parti gestisce la parte di driver come puoi vedere qui gestisce la parte di BIOS questo qua è un BIOS DEL gestisce la parte di Windows Mac abbiamo forse anche un Mac da farvi vedere che probabilmente non parte da mesi ma ok per esempio questo qui ha bisogno dell'aggiornamento BigShore e volendo si può fare da qui è da credo agosto che non si collega questo Mac e quindi abbiamo la possibilità di lavorare in modalità approvazione installa tutto file override di quello che mi serve il resto non lo fare e così via davvero su un bel un bel su quasi tutto lo strato software ora chiaramente se abbiamo che ne so Photoshop o roba del genere non arriviamo a peggiare quello anche perché il software licenziato è sempre problematico da peggiare però quasi tutto il software di uso comune è gestito se andiamo su K3PP poi Daniele non so se ho risposto alla tua domanda ma se andiamo su K3PP che è il nuovo modulo di terze parti come dicevo non so se questo l'hai sentito questo profilo serve a installare una volta che il software si trova sulle macchine viene messo un aggiornamento in automatico i software supportati sono davvero già molti ed è molto agile anche la funzione la 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 procedura per raggiungerne si possono anche richiedere eventualmente chiaramente ci sarà una una graduatoria in qualche modo però come puoi notare ci sono anche software abbastanza verticali per esempio M Remote NG che io uso per il controllo remoto prima me lo aggiornavo a mano adesso me lo aggiorna lui ripeto non so se ho risposto alla tua domanda Daniele comunque nel caso vi verrà mandato un link alla registrazione come detto non sono andato troppo in dettaglio perché queste sessioni vogliono essere abbastanza abbastanza veloci e darvi spunti e basta però questo mi sembra davvero una milestone all'interno del framework caseia grazie a te Daniele altre domande se no ci avviamo verso la conclusione come dicevo potete attivarlo e usarlo solo su qualche macchina di test perché fa testo il profilo di scan d'analisi creato con patch strategy caseia 2.0 vi faccio notare che ho creato una piccola vediamo un po' KB che trovate sul sito di ACAB per come dire per la procedura per l'attivazione e anche con un piccolo riassunto di quello che ho detto se non ci sono altre domande ecco Maurizio ciao Maurizio temo di non aver capito quando uscirà la versione infinitiva allora questa è una beta pubblica dovrebbe stare fino al Q3 scusa Q4 2021 in beta pubblica e Q1 2022 esce la versione definitiva questo hanno detto anche un paio di giorni fa al caseia connect quindi non c'è una data specifica ma è addirittura d'arrivo perché ripeto da 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 quello che vedo è piuttosto maturo la sapremo quanto costa allora la parte di patching di Windows è già Windows e Mac semi operativi e tutto ciò che è Microsoft e tutto ciò che è Apple è gestito come era prima quindi è incluso nella licenza la parte per parti se rispetta la stessa logica di prima sarà aggiuntiva in generale conta che il motore è sviluppato internamente da caseia quindi è possibile per esempio che sia compreso così come quasi tutti i moduli sviluppati da caseia che sono all'interno del sistema di solito si paga un questa è una mia ovviamente valutazione ma di solito si paga diciamo l'aumento di licenza nel caso in cui ci siano delle integrazioni vedi Acronis vedi adesso il ter-party che essendo i vanti costa a caseia acquistarlo è possibile anche che in qualche modo lo mettano nel pacchetto forse per me io lo metterei sicuramente nel pacchetto perché risolve tanti problemi prego Maurizio che mi dice un'ultima cosa le cumulative update di Windows 10 non posso gestirle allora credo che parli di feature la risposta è sì addirittura Windows 11 non so se qui ne trovo posso gestirle ovviamente se se passano tramite Windows update quindi se si trattano degli enablement packages che Microsoft rilascia per esempio tra la 1900 tra la 1909 e la 2004 non c'era quindi in quel caso lì chiaramente non c'è modo vediamo se aspetta se c'è no in realtà qui sono le ecco feature update vedi 21h2 e 21h1 le macchine che qui mancano sono quelle elencate qua io per esempio in questo caso le ho messe in reject questa è una cosa che c'era già nella possibilità di gestire le patch l'esclusione delle patch in due modalità ossia reject se voglio non installarla ma farla vedere in lista o suppress se invece la voglio non solo di installare ma neanche farla vedere nere e portare le liste e così via se la metto in reject come nel mio caso la trovo nella lista eventualmente posso fare un deploy puntuale devo dirvi la verità devo dirvi la mia esperienza ho fatto una macchina per una collega qualche giorno fa e l'ho aggiornata la 21h1 non era ancora uscita la 21h2 da qui e ha fatto velocissimo tra l'altro ci ha buttato in mezzo anche il firmware Dell e la macchina nel giro di mezz'ora era completamente peggiata diciamo che il flusso di domande mi sembra un po' diminuito vi consiglio ovviamente con attenzione si tratta sempre di una beta per quanto pubblica di testarlo perché davvero a me ha fatto ha stupito a diversi livelli e se non ci sono altre domande vi ringrazio per il vostro tempo e ci sentiamo buona giornata a tutti e grazie di nuovo ciao ciao ciao